Un vento di cambiamento sta soffiando sui palinsesti Mediaset, con il ritorno molto atteso della Talpa, uno dei reality show più amati. Questa volta però si prospetta un'esperienza completamente rinnovata, pronta a sorprendere il pubblico con un formato innovativo e audace. Al timone di questa nuova avventura troviamo la carismatica Diletta Leotta, volto noto dello sport italiano, pronta a cimentarsi in una sfida inedita. La sua presenza alla conduzione non è l'unica novità. Il cast, recentemente svelato, è un mix esplosivo di personalità diverse che promettono di tenere incollati gli spettatori. Tra i partecipanti spiccano nomi come Jill Rocca, Ori Anikaki e Marina Larosa. Non mancano sportivi del calibro di Marco Melandri ed Elisa Di Francisca, pronti a mettere alla prova le loro abilità in un contesto completamente diverso. La presenza della coppia Andreas Muller e Veronica Peparini aggiunge un tocco di romanticismo e dinamica di coppia al mix già esplosivo. La vera rivoluzione sta nel formato, con Pier Silvio Berlusconi che ha anticipato un'edizione molto sperimentale, che vedrà una sinergia inedita tra televisione tradizionale e piattaforme digitali. Il pubblico sarà coinvolto in un'esperienza cross-mediale, con contenuti che rimbalzeranno tra Canale 5 e Infinity, culminando in un finale memorabile. Mentre i dettagli sul Montepremi rimangono avvolti nel mistero, l'attesa cresce. La data di inizio non è ancora stata annunciata, ma si vocifera che il programma possa prendere il via subito dopo la conclusione di Temptation Island, garantendo agli spettatori un'estate ricca.